Il metodo di studio peggiore di sempre. L'ho scoperto parlando con un mio amico, Francesco, questo video è per te. Mi raccontava dei suoi successi universitari e io me lo immaginavo un po' topo di biblioteca, sempre in isolamento, ligio al dovere. E invece viene fuori che la sua vita da studente era praticamente una roulette russa. Nel periodo dei corsi universitari la sua idea di sessione di studio prevedeva un bar e quanto più casino possibile intorno. E poi invece in sessione metteva in atto il vero piano d'attacco. Si prendeva i suoi libri, le sue dispense, i suoi appunti, il suo computer e si piazzava in vasca da bagno. Sì, vasca da bagno. Circondato peraltro di sigarette e di bottiglie di vino, con la porta chiusa a chiave per nove o dieci ore di fila con il coinquilino a implorare pietà. E devo ammettere che di tutte le storie che ho sentito sulle vite degli studenti. Questa descrive decisamente...